Nell'ultima lezione della settimana scorsa abbiamo parlato delle reproduzioni emarie bidimensionali e come esempio abbiamo visto soltanto il caso di trasmissione in banda passante in cui le due dimensioni erano la componente in fase e la componente in quadra la loro scrittura del segnale disponibile al modulatore aveva uno spettro del genere l'emmesia formata onda era parte reale di perché lo scrivevamo come parte reale del segnale analitico, non so l'azione che abbiamo utilizzato ma si può scrivere in questa maniera 2 e con m un impulso t di t a questo punto qui lo divido per radice di t con t un impulso sicuramente passo a passo e elevato a 2 pi greco, anzi elevato ogni fase e elevato a 2 pi greco in fc questo è il modo più generale di scrivere le forme d'onda disponibili al modulatore e la rappresentazione geometrica dava s con m uguale a radice di e con m coseno di fase di con m seno che per praticità abbiamo scritto anche come un numero complesso per cui si tratta semplicemente di tanti vettori sul piano a lunghezze variabili la lunghezza è pari alla radice di energia e fasi variabili, la fase è f con m questo potrebbe essere s con m, qui ci potrebbe essere s con 1, s con m grande e così via questo tipo di segnale si chiama anche ampm dove mpm sta per amplitude modulation phase modulation da non confondersi però con la modulazione di ampiezza e la modulazione di fase nelle modulazioni analogiche si chiama mpm perché io sto cambiando qui l'ampiezza eccola e la fase, eccola qui, in una forma d'onda sinusoidale ma ampiezza e fase variano in un set discreto tutte le ampiezze possibili sono radice di e con 1, radice di e con 2, punti di ospensione, radice di e con m tutte le fasi possibili sono f con 1, f con 2, punti di ospensione e f con m quindi variano sempre discreto, infatti questa è una modulazione discreta poi come esempio abbiamo visto quello in cui, che succede se io fisso le ampiezze e valio solo la fase? abbiamo visto che teniamo la PSK le ampiezze sono tutte uguali quindi se cambia solo la fase i vari segnali potrebbero essere rappresentati in questa maniera S con 1, S con 2 e così via S con m e abbiamo detto tutto di questa segnalazione come abbiamo fatto come esercizio anche il caso di modulazione differenziale ora, rimuoviamo questo vincolo cioè che l'ampiezza sia fissata l'ampiezza dobbiamo essere variabile quindi torniamo nella categoria delle modulazioni mpm in cui cambio sia la fase che l'ampiezza però l'ampiezza e la fase le facciamo cambiare in modo opportuno in modo tale che i segnali rappresentativi quindi la rappresentazione geometrica dei segnali vada a trovarsi su una griglia rettangolare quando succede questo abbiamo a che fare con la modulazione qm quadrice amplitude modulation la parola quadrice sta per il fatto che e lo vedremo subito andando a disporre i segnali la considerazione dei segnali ai nodi di maglie quadrate appunto di qui deriva il fatto quadrice amplitude modulation in realtà si chiama quadrice amplitude modulation per essere più precisi perché si sfruttano tutte e due le portanti che sono uguale a due il segnale ha questa espressione ma le ampiezze e le fasi sono legate in maniera opportuna e appunto come detto i segnali nella rappresentazione geometrica i segnali finiscono sui nodi di una griglia a maglie quadrate ad esempio nel caso di m uguale a 4 la situazione è questa qui 4 segnali ai vertici di un quadrato nel caso m uguale a 8 la costellazione assume questo aspetto servono 4 segnali in più ne mettiamo 2 a destra e 2 a sinistra 1 2 1 2 1 2 m uguale a 16 ne servono altri 8 rispetto a quelli ne mettiamo 4 a di sopra e 4 a di sotto ottenendo questa costellazione 1 2 3 e 4 in più sopra 1 2 3 e 4 in più sotto nel caso m uguale a 32 ne servono altri 16 e ne mettiamo 4 sopra, 4 sotto, 4 a sinistra e 4 a destra per ottenere una croce quindi la costellazione dei segnali a questo aspetto ne mettiamo 4 a destra 4 a di sotto 4 a sinistra 4 a sinistra e 4 a di sopra voglio rappresentare con delle linette con tratteggio sottile il perimetro della costellazione e le maglie della griglia la griglia ha maglie quadrate dove il lato è D anzi dove il lato è D e lo chiamo appunto D perché c'è la distanza minima presegnante e si può andare oltre possiamo rappresentare la 64, la 128 e così via ma mi sembra scoperto ma mi sembra scoperto farlo anche perché è stata una sotturba in qualsiasi libro l'importante è esserci capiti vi faccio solo notare che il caso m uguale 4 è una 4qm che è lo stesso schema di una 4psk che abbiamo anche chiamato qpsk quindi gli acronimi qpsk, 4psk, 4qm rappresentano lo stesso oggetto per m uguale 8 è l'unica situazione un po' strana perché è una costellazione rettangolare da qui in poi m uguale 16, m uguale 32 e così via la cosa si regolarizza perché abbiamo solo due possibili casi costellazioni quadrate quando m si può scrivere come il quadrato di un numero o meglio e quindi quando log 2dm è pari questo è un quadrato di lato 4x4 così la 16, la 64, la 25, la 26 e così via mentre invece il caso in cui log 2dm è dispari log 2 di 32 e qui fa 5, numero dispari non potete scriverla come un quadrato di lato radice di m perché la radice di 32 non è un numero intero infatti questo non è un quadrato in questo caso quando log 2dm è dispari si ha a che fare con una situazione a croce questa viene chiamata nel caso log 2dm pari viene chiamato square qm qm quadrato mi sembra ovvio perché e questo log 2dm dispari viene chiamato cross qm e anche qui il nome è abbastanza esplicativo log 2dm pari log 2dm vari log 2dm dispari log 2dm Holding log 3dm È vuol dire Takeодite M vuol dire 4 è la Qps proportional M vuol dire 8 è l'unica parte ma è un'aere rettangolare. Di questa non dobbiamo dire nulla, abbiamo già visto tutto negli esempi passati. Cominciamo allora a dare un'occhiata al caso square qm, che in effetti rappresenta questo, m uguale 4, 16, 64, 256 e così via. In questo caso abbiamo a che fare con due modulazioni radice di m a sk in quadratura. Lo abbiamo già visto in questo caso qui, queste erano due modulazioni di ampiezza in quadratura, l'ampiezza sull'asse x potrebbe essere negativa o positiva, l'ampiezza sull'asse y potrebbe essere negativa o positiva e tutte le possibili combinazioni di ampiezza sull'asse x, che sono due, per ampiezza sull'asse y sono due, danno quattro possibili casi che sono positivo o positivo, negativo o positivo, negativo o negativo, negativo o positivo o negativo. Potete estendere questo a questo caso m dimensionale. Una mqm quadrata la potete vedere come due radice di m a sk, una sull'asse x e una sull'asse x. La cordita x è una sk, ad esempio potrebbe essere questa, la coordinata y è un'altra sk, ad esempio potrebbe essere questa e individuano unicamente un punto nel piano, che è un punto qui. Questo è il caso del mq16 che può essere vista come due, quattro a sk in quadratura, che sono le due coordinate. E quindi le coordinate hanno questo aspetto, le coordinate segnali una volta che ho fatto la rappresentazione geometrica dei segnali. Il generico segnale S con m avrà sulla strada del tipo 2i-m-1 di mezzi e 2j-m-1 di mezzi. In realtà è sbagliato e non lo correggo. Per ij appartrente a 1m. Dicevo è sbagliato perché abbiamo detto, ho appena detto, che una square qm può essere vista come 2 radice di m a sk. E allora qua ci dobbiamo mettere le coordinate nella radice di m a sk. Che abbiamo visto un'altra volta essere questa. E lì che è pari da 1 a radice di m. Infatti, quando fate variare i, ottenete tutti i possibili punti che sono più o meno di mezzi, più o meno 3 mezzi di, più o meno 5 mezzi di, più o meno 7 mezzi di e così via. Tutti i punti qui spaziali. E la seconda ordinata è tale e quale. Chiaramente devo utilizzare un indice differente. In questo caso avremo che la x può essere, se le maglie sono quadrate a lunghezza d, posso prendere i valori più o meno di mezzi e più o meno 3 mezzi di sulla x. Sulla y, più o meno di mezzi e più o meno 3 mezzi di. Tutte le possibili combinazioni individuano tutti i possibili punti del quadrato. Questo facilita molto il calcolo delle prestazioni in termini di efficienza e potenza e probabilità di errore. Infatti, vi ricordo che tutti gli altri parametri abbiamo già ricavati nella prima lezione, prima di cominciare a dare una panoramica dei possibili formati di modulazione, perché erano indipendenti dalla disposizione della costituzione, ad esempio l'efficienza in banca. Rimaneva da ricavare soltanto l'efficienza in potenza e il probabilità di errore di ogni esempio di modulazione che stiamo vedendo. Proviamo a calcolare qui l'efficienza in potenza, per fare questo ci serve l'energia media per bit e la distanza minima, la distanza minima è di chiaramente, e allora ci basta calcolare l'energia media per bit. La calcoliamo qui, cominciamo a calcolare l'energia media per simbolo, che poi divideremo per il numero di bit, log 2 di m, per ottenere l'energia media per bit. L'energia media per simbolo è molto facile, perché se i simboli sono improbabili, 1 su m, la somma delle energie di tutti i possibili segnali. Ma l'energia di un segnale del genere è facile, coordinata di x al quadrato più coordinata di y al quadrato. Somma su tutti i segnali. Quindi somma su m che vada 1, somma su i che vada 1 a radice di m, somma su j che vada 1 a radice di m, perché tutti i possibili segnali sono tutti i possibili coordinati. Quindi faccio variare i e faccio variare j. La prima coordinata al quadrato, 2i meno radice di m meno 1 al quadrato e faccio variare la seconda, quindi più la seconda coordinata al quadrato, 2j meno radice di m meno 1 al quadrato di m meno 1 al quadrato. Ma come notate, questo conto qui l'abbiamo già fatto, guardate soltanto il primo pezzo. La somma su j non dipende da j questo primo pezzo e quindi è radice di m volte. La somma su i è la somma di questo oggetto qui che abbiamo già fatto nella ASK, sappiamo quanto fa. Ripeto perché era distratto. Questa doppia sommatoria la possiamo fare immediatamente. Questa doppia sommatoria di questo binomio è la doppia sommatoria del primo più la doppia sommatoria del secondo. Guardate la doppia sommatoria del primo. Il primo ha come indice soltanto i, quindi la somma su j non serve a niente, è radice di m volte questo. Quindi abbiamo 1 su m di mezzi al quadrato, la somma su j non serve a niente perché è radice di m volte, e arriva soltanto la somma su i che va da 1m a radice di m di quella quantità là. 2i meno radice di m meno 1 al quadrato. Cosa, somma che abbiamo già fatto per la SK, sappiamo già quanto fa questa somma. E poi c'è la doppia sommatoria del secondo, ma nella doppia sommatoria del secondo abbiamo somma su i, somma su j di un indice che dipende soltanto da j. Quindi la somma su i non serve a nulla, dice semplicemente radice di m volte, e poi la somma su j, ma è da questa stessa somma. Ora qui ho utilizzato la somma su i, ma la somma su j non cambia nulla. Quindi lo stesso termine è lo stesso termine, somma da questo, quindi è due volte questo termine. scritto un po' meglio, diventa, semplifica radice di m e diventa 2 di mezzi al quadrato, 1 su radice di m, somma su i che va da 1 a radice di m, quindi 2i meno radice di m meno 1 al quadrato. Questa è una quantità che abbiamo già calcolato in un esercizio nella settimana scorsa, per la s k. Questa infatti è l'energia media di una radice di m a s k. Quindi queste due volte l'energia media di una radice di m a s k. Che era, se ricordate, di quadro a dodicesimi, m quadro meno 1, ma stavolta invece di m ci dovete avere radice di m e allora invece di m quadro uscirà fuori m. Quindi è due volte d quadro a dodicesimi radice di m a quadrato meno 1 a dodicesimi, e cioè d quadro m meno 1 sesti. La cosa interessante qui da notare è che è venuto fuori che l'energia media per simbolo è due volte di una mqm, anzi di una m square qm, quindi una mqm quadrata, abbiamo detto, è fatta da due radice di m a s k in quadratura e allora l'energia media di una mqm quadrata sarà due volte l'energia media di una radice di m a s k, perché la mqm quadrata è fatta da due radice di m a s k in quadratura, l'energia media dell'una, della prima, sarà due volte l'energia media di una radice di m a s k. E quindi abbiamo trovato subito l'efficienza in potenza, quindi stiamo dicendo che l'energia media del singolo è di quadro sesti, m meno 1, e quindi l'efficienza in potenza quanto sarà? È la distanza minima diviso l'energia media per bit. L'energia media per bit è l'energia media per simbolo diviso il numero di bit, quindi è di quadro diviso 6 con 2 di m per m meno 1, e di conseguenza l'efficienza in potenza diventa la ricavate invertendo quella ecorsione, e cioè deve fare d quadro diviso con b, e quindi è 6 con 2 di m diviso m meno 1. va bene? e va bene. Anche in questo caso, come tutte le modulazioni bidimensionali, quando m cresce l'efficienza in potenza va a 0, ovvio, perché per mantenere la stessa istanza, devo piazzare altri segnali nelle uniche due dimensioni che ho, quindi nel piano, e appunto per mantenere la stessa istanza questi segnali nuovi che arrivano, e devo piazzare sul piano, devo essere sempre più lontani dall'origine, per mantenere la stessa distanza, tra i segnali. E allora vuol dire che se sono più lontani dall'origine, hanno energia maggiore, l'energia media costituzione cresce, l'efficienza in potenza decresce. La probabilità di errore la troviamo immediatamente soltanto proprio questo fatto che è l'equivalente di 2 radice di m a sk in quadratura. In particolare, la probabilità di errore sul simbolo, la posso sempre scrivere come 1- probabilità di corretta rivelazione sul simbolo, ma per indovinare il simbolo, non devo sbagliare nella coordinata x, nella probabilità di errore sul simbolo è 1- probabilità di corretta rivelazione, è sempre la solita cosa, ok? Non perdere tempo a guardare la lavagna, ascoltate e comprendere questo dicendo, anche perché è una cosa semplice, probabilità di errore uguale 1- probabilità di corretta rivelazione, perché è complementare. Dicevo, per indovinare, perché corretta rivelazione vuol dire indovinare il simbolo, non devo sbagliare nella coordinata x, nella coordinata y, contemporaneamente. Quindi non vi stupirete se per non sbagliare la coordinata x deve succedere che l'evento 1- probabilità di errore sulla coordinata x. Per non sbagliare la y devo fare 1- probabilità di errore sulla coordinata y, per non sbagliare tutte e due contemporaneamente, prodotto delle probabilità. Ma la probabilità di sbagliare una coordinata è la probabilità di errore di una radice di MSK. Ok? Per indovinare il simbolo, devo indovinare la coordinata x e la coordinata y. indovinare la coordinata x vuol dire 1- probabilità di errore sulla x. Indovinare la y vuol dire 1- probabilità di errore sulla x. Indovinare tutte e due è 1- probabilità di errore sulla x per 1- probabilità di errore sulla y. ma siccome sono uguali, è 1- probabilità al quadrato. Ma questa probabilità chi è? è la probabilità di errore di una radice di MSK che abbiamo già visto. La probabilità di errore di una radice di MSK poi cos'era? Vado a memoria, era 2m-1, radice di m-1, diviso m, radice di m, q di radice di che cosa? era 12, log 2 di m, anzi diviso 2, quindi 6, log 2 di m, ma ci sta un radice di m, quindi tiro fuori un mezzo, 3, log 2 di m, diviso... radice di m, meno 1, e poi e con b sono 0. Controllate che sia corretta, ma in ogni caso la possiamo ricavare come esercizio di nuovo. Quindi la stessa probabilità di errore che abbiamo ricavato con esercizio l'olta scorsa, in cui al posto di m ci mette la radice di m. Chiaramente ogni volta che vedete 1-1-p quadro, a parte che potete sviluppare questo quadrato, e se lo sviluppate avete il quadrato del primo, il quadrato del secondo e il doppio prodotto. 1-1-1, si semplifica, rimane più il doppio prodotto, meno il quadrato del secondo, quindi meno p quadro, rimane 2p-p quadro. Ma se p, questa probabilità, è molto meno di 1, 2p è enormemente maggiore di p quadro, e quindi meno p quadro lo tolgo via di mezzo. E quindi quella probabilità è sempre uguale a questa. Quando, se questa probabilità è molto meno di 1, ripeto, 1-1-p quadro è uguale a 2p-p quadro. Quando p è molto meno di 1, p quadro è trascurabile rispetto a 2p, e dico che è circa uguale a 2p. Non mi metto niente a perdere tempo a fare quel quadrato, va bene? Non ha alcun senso. Pensate a p che fa 10 a meno 5, e voi dovete fare 2 volte 10 a meno 5, meno 10 a meno 5 al quadrato, 10 a meno 10. Che senso ha portarsi indietro questo termine? A posto. E quindi questo era un altro esercizio piuttosto semplice. Andiamo invece a vedere il caso di cross Qm. Però prima di vedere il caso di cross Qm, perché lo square è 4, 16, 64 e così via. Il cross è da 32, 128 e così via. Ci rimane fuori, soltanto il caso M è uguale a 8. Ma il caso M è uguale a 8 è ridicolmente semplice. Quello potete calcolare questa probabilità di errore. Facciamo la via l'esercizio. Facciamo. 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 Ecco. Te amare l'esercizio. il caso m uguale 8 che vi devo dire? l'energia media per simbolo quant'è? è semplicissimo ci sono la metà dei segnali 1, 2, 3, 4 questi 4 che hanno tutti la stessa energia perché sono tutti vettori con la stessa lunghezza e siccome l'energia di un segnale è la lunghezza al quadrato del vettore si hanno la stessa lunghezza hanno la stessa energia la coordinata di questa chi è? dimenzia alle x e dimenzia alle y la sua energia chi è? dimenzia al quadrato per 2 quindi la metà dei segnali ha un'energia dimenzia al quadrato per 2 l'altra metà dei segnali che sono questi 1, 2, 3, 4 hanno energia coordinata di x al quadrato più coordinata di y al quadrato la coordinata di x al quadrato è di mezzi al quadrato la coordinata di y al quadrato è 3 mezzi di al quadrato quindi la metà dei segnali hanno questa energia di mezzi al quadrato più di mezzi al quadrato l'altra metà dei segnali ha energia di mezzi al quadrato più 3 mezzi di al quadrato se semplificate cosa ottenete? 3 mezzi al quadrato è 9 quarti più 1 quarto fa 10 quarti 10 quarti vuol dire 5 mezzi più 2 volte 1 quarto più 1 mezzo fa 6 mezzi 6 mezzi fa 3 al numero 2 diviso 2 3 mezzi 3 mezzi di quadrato questo segnale qua ha coordinata di mezzi e di mezzi la sua energia è di mezzi al quadrato più di mezzi al quadrato ok? quest'altro segnale qua invece ha coordinata x 3 mezzi di coordinata y è un di mezzi la sua energia è 3 mezzi di al quadrato più di mezzi al quadrato ok? e quindi qui ho sufficientemente messo l'energia dei segnali al centro e l'energia dei segnali del corpo e quindi nel caso m uguale 8 lo scrivo qui a fianco abbiamo l'energia media è 3 mezzi di d al quadrato e di conseguenza l'efficienza in potenza è la distanza minima d al quadrato diviso l'energia media per bit che è 3 mezzi di quadro diviso il numero in bit log 2 di m ma log 2 di 8 fa 3 quindi questo diviso il numero in bit che sono 3 questo e questo amplifio questo e questo amplifio è un'ercizia di ipotesi di derivazione di Buddha dobbiamo utilizzare il numero in bit è così che è un numero in bit probabilità di errore la possiamo calcolare all'istante chiaramente non l'ho detto prima per la square qm ma questo vale sia per la square che per la cross qui siamo in banda passante e quindi la demodulazione può essere coerente o incoerente tuttavia capite bene che se io non mi stimo correttamente la fase aleatoria introdotta al canale posso trasmettere un segnale positivo e la fase a caso me lo può far diventare negativo e quindi l'informazione qui è immagazzinata nell'ampiezza e nella fase e quindi se non stimolo la fase aleatoria introdotta al canale non posso demodulare quindi in questo caso non è possibile alcuna demodulazione coerente è possibile solo la demodulazione coerente e infatti nella probabilità d'errore della square qm che è vista come 1-1 meno probabilità d'errore al quadrato della radice di mSk lì ho messo la probabilità d'errore della radice di mSk demodulata coerentemente perchè è l'unica demodulazione possibile per una ASk coerente e quindi se la demodulazione è l'unica demodulazione possibile è quella coerente e allora devo individuare le regioni di incisione perchè io vado a minima distanza e le regioni di incisione in una modulazione così regolare non è nient'altro che nel caso di una m uguale 8, queste ho 8 punti, queste sono le regioni di incisione non c'è un gran che da discutere l'abbiamo già fatto per la 4psk quali sono le regioni di incisione? i 4 quadranti faccio passare una retta che divide queste due e queste due una retta orizzontale che divide queste due e queste due e queste sono le 4 regioni di incisione quindi la m uguale 8 queste sono le regioni di incisione ovviamente e come vedete ci sono due possibili tipi di segnali i segnali interni che hanno 1, 2 e 3 vicini i segnali esterni invece che hanno soltanto 1 e 2 vicini, quelli all'angolo e allora per calcolare la probabilità di errore apro un attimo la parentesi e faccio un discorso che poi mi servirà anche per la cross qm è semplice beh, supponete che avete una griglia molto regolare, va bene? oppure prendete semplicemente la oppure prendete semplicemente la allora questa potrebbe essere una porzione di una cross qm come vedete ci sono vari simboli qui ci sono dei simboli, fateli chiamare interni che hanno 1, 2, 3 e 4 vicini dei simboli sul lato, ad esempio questo oppure questo che hanno un vicino sotto, uno a sinistra e uno a destra quindi hanno 3 vicini e poi ci sono dei vicini agli spigoli che hanno soltanto 2 vicini 1 e 2 qui ci sono solo 3 tipi di segnali quelli che hanno 4 vicini quelli che hanno 3 vicini e quelli che hanno 2 vicini va bene? nel caso che stiamo vedendo qui adesso m uguale a 8 abbiamo soltanto segnali che hanno 3 vicini quelli sui lati questi 2 e questi 2 che hanno 1, 2 e 3 vicini e quelli sugli spigoli questi qua che hanno 1 e 2 vicini ma io adesso le faccio al caso generale per 4, per 3 e per 2 vicini quello per 3 e per 2 vicini lo utilizzo per calcolarmi questa propria di errore nel caso m uguale a 8 quello con più 4 mi servirà per la cross square e allora la probabilità di errore data una categoria di simboli quelli che hanno 4 vicini quindi per me s con 4 è simbolo con 4 vicini poi calcolarò la probabilità di errore condizionata ai simboli con 3 vicini e la probabilità di errore condizionata ai simboli con 2 vicini e me ne metto da parte ora ora se io ho 4 vicini posso sbagliare la probabilità di errore è sempre 1 o meno la probabilità di corretta regolazione ma l'unico modo di non sbagliare un segnale a 4 vicini è che la componente di rumore sull'asse x sia piccola vi ricordo che questo è di mezzi e questo è di mezzi quindi la componente di rumore sull'asse x deve essere piccola in modulo più piccolo è di mezzi perché se il rumore in modulo è più grande di 2 mezzi vi fa scattare il segnale ricevuto da qua al di fuori e voi sbagliate quindi per ripetare correttamente un segnale con 4 vicini deve succedere che la componente x che è la prima componente in modulo deve essere più piccolo è di mezzi vi ricordo che io trasmetto ad esempio questo segnale e ricevo questo segnale più rumore che magari può stare qua fin quando che sta qui non ho alcun problema perché lo associo correttamente a questo quando esce fuori questo quadrato problema perché ho sbagliato come si fa a uscire fuori questo quadrato? o meglio come si fa a non uscire fuori questo quadrato? corretta dichiarazione non esco fuori da questo quadrato quando la coordinata x rimane nel quadrato qui e la coordinata y mi fa rimanere qui ora per uscire fuori questo quadrato basta che io sulla x ricevo la componente di rumore che è maggiore in modulo di mezzi se è positiva me ne vado di qua se è negativa me ne vado di qua per non avere errore basta che la prima componente n con 1 quella su x di rumore sia più piccola in modulo di mezzi così non esco fuori da questo quadrato contemporaneamente deve anche succedere che la seconda componente di rumore in modulo sia più piccola che di mezzi così non esco fuori da questo quadrato ma questa probabilità l'abbiamo già calcolata è semplicissima perché sono due componenti indipendenti la probabilità dell'intersezione perché questo vuol dire che si verifica il primo evento e si verifica anche il secondo probabilità di intersezione di eventi indipendenti perché n1 e n2 sono componenti sulle due coordinate delle due funzioni in base ortoconali e il rumore di Cassiano proiettato su funzioni in base ortoconali implica indipendenza quindi questi sono due componenti di rumore indipendenti probabilità che succede al primo evento e succede al secondo è prodotto da probabilità ma queste sono anche identicamente distribuite perché n1 è il rumore di Cassiano a media zero è varianza sigma quadro n2 è il rumore di Cassiano a media zero è varianza sigma quadro la probabilità che n sia il modulo minore di mezzi con 1 e che n2 sia il modulo minore di mezzi e la probabilità che 1 delle due sia il modulo minore di mezzi al quadrato non è standard divido il ds per la direzione standard diviso sigma diviso sigma diviso sigma e ora è la probabilità che una variabile bilaterale di Cassiano standard in modulo sia minore di d sul 2 sigma al quadrato ma noi sappiamo quant'è questa probabilità il modulo minore di d su 2 sigma se questo è d su 2 sigma questa probabilità si chiama quella all'interno si chiama 1-2 volte la quota questa probabilità interna che in modo sia minore di quel numero è 1-2 volte questo 1-2q quindi abbiamo 1-1-2q al quadrato e lo metto la banda e lo metto la banda poi dovrei calcolarmi anche potrei potermi calcolare la probabilità di errore condizionata a un simbolo che ha tre vicini quindi stesso discorso di prima la probabilità di errore è 1-1 probabilità di corretta regolazione e ora devo capire qual è la probabilità di corretta regolazione quando ho a che fare con un simbolo che ha tre vicini quindi non è questo simbolo qua questo potrebbe essere un 4 vediamo un simbolo che ha tre vicini questo quindi questo è 1-2 la probabilità di corretta regolazione cioè la probabilità che succeda cosa? beh, per non sbagliare questo simbolo la prima coordinata con questo asse x deve soddisfare le stesse condizioni di prima il rumore sull'asse x non deve essere troppo grande altrimenti vado via a sinistra o a destra e sbaglio simbolo quindi n con 1 in modulo minore il di mezzo e su n con 2 che deve succedere invece? non serve il modulo beh, stavolta il modulo non serve perché io se ho un rumore esaminiamo quelle che stanno sul lato in alto a me una realizzazione di rumore negativa non mi disturba purché sia non sia troppo negativa quanto troppo negativa più piccolo di meno di mezzo nel qual caso mi abbassa questo segnale ricevuto me lo fa scattare qua sotto rumore negativo mi va bene ma non troppo negativo il limite qual è? meno di mezzo rumore positivo mi va bene qualsiasi cosa qui mi va bene più grande di mezzo mi va bene sì anche enormemente più grande non lo fa non mi fa cambiare la regione decisione quindi qui sulla seconda coordinata vende con 2 mi basta che il rumore sia non troppo negativo cioè il basso sia maggiore di meno di mezzo quindi è monolatero se avessi guardato il simbolo di sotto cosa sarebbe cambiato? nulla perchè mi vanno bene qualsiasi rumore negativo quanto volete ma non positivo o meglio positivo va bene ma purché non sia troppo positivo quanto troppo positivo? maggiore di scusate sì maggiore di di mezzi allora questo qui si chiama S va bene? segnale di civuto è S più rumore n con 1 e n con 2 la seconda coordinata non può essere troppo grande ok? perchè se la seconda coordinata è troppo grande avete questo numero qui ci si somma del rumore n con 2 se n con 2 è più grande di mezzi ci sono dei problemi che vado sopra e così lato destra e lato sinistra ma andiamo a guardare solo questo queste due probabilità sono immediate da calcolare anche qui è 1- il prodotto delle probabilità perchè ne con 1 ne con 2 sono coordinate indipendenti posso standardizzare e cosa ottengo? la prima è la stessa di prima 1-2q per la probabilità della seconda adesso chi è la seconda? gaussiana standard questo è il punto meno D su 2 sigma probabilità che sia maggiore mi serve l'area di destra quella grande probabilità che sia maggiore di meno D su 2 sigma questa coda qua si chiama Q di D su 2 sigma è la coda di sinistra che è uguale alla coda di destra che è uguale alla coda di destra che si chiama Q di D su 2 sigma a me serve la probabilità che sia maggiore di questo numero non minore maggiore 1- questo ripeto la probabilità che una gaussiana standard 0-1 sia maggiore di meno questo numero maggiore di meno questo numero è 1- la probabilità 1- quest'area qua quest'area qua è la coda di sinistra è uguale anche alla coda di destra e che si chiama Q in più quel punto Q di D su 2 sigma qui tutta quest'area qua si chiama 1- Q di D su 2 sigma chiaro? e lo metto da parte qui 1-2Q di D su 2 sigma per 1-1 sulla Q di D su 2 sigma capite quale sarà il passaggio successivo cioè quello di simboli che hanno soltanto due vicini che potrebbe essere questo simbolo qua? al solito la probabilità d'errore 1- la probabilità di corretta rivelazione in questo caso che deve succedere? per non avere un errore esatto esatto allora la prima coordinata n con 1 qui su A6 può essere negativa quanto volete va bene? e può essere anche positiva e spostarvi a destra ma non troppo positiva problema se è maggiore di mezzi problema quindi non deve essere maggiore di mezzi tutto vi va bene purché non sia maggiore di mezzi quindi deve essere maggiore di mezzi per non avere errori se è maggiore di mezzi ho un errore se è maggiore di mezzi nessun problema perché mi sposto il segnale a sinistra su A6 nessun problema qui stiamo probabilità di errore uguale a 1- probabilità di corretta rivelazione non devo sbagliare per non sbagliare basta che l'1 sia positivo ma non troppo e negativo quanto volete minore di mezzi mi va bene tutto e sull'asse y quindi la seconda coordinata n con 2 scusate questa è la prima coordinata n con 1 e sull'asse y la seconda coordinata rumore per non sbagliare rumore negativo mi va bene ma non troppo negativo rumore positivo quanto volete mi va bene tutto quindi purché non sia troppo negativo mi va bene tutto quindi maggiore di meno di mezzi ok meno di quarti mi sta bene meno di mezzi più epsino mi sta bene meno di mezzi meno epsino qua sotto non mi sta più bene positivo quanto volete ma ora di nuovo è la probabilità della intersezione di due eventi indipendenti prodotto le probabilità la probabilità di uno di questi è quello di prima non è 1-2q ma è 1-q questa e questa è 1-q tutte e due fanno 1-q quadro e quindi vedete la simmetrica che c'è 1-1 una sola volta q al quadrato ora queste tre probabilità ce le mettiamo da parte e dopo una breve pausa calcoliamo la probabilità di errore come esercizio della 8-q e e их le 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 a le Grazie a tutti.